ciao ragazzi bentornati alle mie lezioni e bentornati soprattutto alla rubrica che ho dedicato pubblica chiamiamola così al modern electric base di giaco o meglio allo studio all'approfondimento di questa grande risorsa che ci ha lasciato il nostro mito che è la famosa intervista video intervista con jerry jambott dell'85 più o meno in cui giaco racconta un po tutta storia come si è avvicinato alla musica di come si è avvicinato poi al basso eccetera eccetera ho fatto questa rubrica al seguito come avevo detto l'altro video a richieste di amici bassisti che effettivamente concordo l'ottimo grande lavoro jerry jambott di trascrizione di tutto quello che è stato fatto da già con questa intervista è leggermente incompleto o meglio ci sono alcuni alcuni elementi che giustamente jerry ha evitato di inserire nel libro diciamo legato nel cartaceo legato al video niente da ovviamente da criticare all'immenso lavoro di questo grande bassista che vi consiglio di andare ascoltare ha suonato per lo più quale tra frank ma ha registrato tra le linee di basso più importante più famose della scena c'era tant'è che già con suo fan proprio chiusa parentesi secondo secondo video dedico a questo argomento è il secondo passaggio secondo elemento che giaco dice a jerry quando se non ricordo male parla delle musiche dei generi musicali che lo hanno influenzato maggiormente ovvero il passato da radio dalle sue parti quando era un ragazzo florida ovvero il funk ovviamente lui è stato influenzato da moltissimi generi musicali però qui parla il funk che credo fine anni sessanta se non ricordo male cita un brano di wilson piquet mi veniva il nome funky bradway un brano simpaticissimo un brano con un groove pazzesco costruito intramente intorno a questo groove questa linea di basso che già appunto suona video e che giaco ha suonato anche in molti suoi concerti tra tutti il famoso concerto famosa live con il wetter record in germania quando lui fa i suoi famosi soli con la loop sotto il concerto quello che trovate se scrivete wetter record live 1 3 primi su youtube live 9 feinberg germania 78 quando giaco appunto con la loop fa una citazione a questa linea di basso vediamo se viene in mente allora andiamo a vedere cosa ci quali spunti ci dà questo riferimento di giaco innanzitutto appunto quello andarsi ascoltare tutto quel funk anch'io pur essendo appassionato del genere ho scoperto un po' tardi un po' in su con gli anni perché appunto un funk diciamo chiamiamolo primordiale siamo appunto negli anni sessanta e iniziavano queste band a fare questo tipo di musica che per me è meravigliosa soprattutto perché il basso è un ruolo veramente fondamentale quindi ci vuole un groove ci vuole innanzitutto un ascolto mirato quindi ampliare un po' i nostri ascolti i nostri orizzonti e poi per suonarlo ci vuole un groove quindi un timing perfetto andiamo al brano in questione questo funk Broadway che appunto è praticamente interamente ruota tutto intorno a questo riff di basso che è costruito su un accordo per lo più di dominante il settima il classico il funk allora la prima cosa da fare o meno la prima cosa che faccio io quando ho individuato l'accordo o gli accordi principali del riff vado a studiare o a ripassare l'arpeggi su tutta la tastiera ricordate che per chi ha visto le mie lezioni precedenti è fondamentale conoscere arpeggio e scavole in tutto il manico in tutta la nostra tastiera in tutti i range e soprattutto sia il settimana come si può dire in verticale che è orizzontale quindi abbiamo un mi settima mi settima è composto a tonica terza maggiore quinta e settima minore quindi un accordo maggiore con la settima minore io lo posso suonare qui posso anche suonarlo così pure tutto in orizzontale soprattutto posso suonarlo su più ottave variando l'ordine delle note quindi voicing rivolti eccetera eccetera per chi magari su questo aspetto un pochino indietro può andare a qualche lezione fa qualche lezione fa dove appunto spesso ho affrontato l'allumento comunque studiare l'arpeggio su tutta la stiera e dopo di che le scale che si possono associare a questo tipo di accordo qui vi rimando al corso di armonia o comunque le lezioni dedicate alla parte armonica su un accordo di dominante e in questo caso mi ripeto mi settimo si può suonare la scala cosiddetta miso lidia in una scala maggiore in una scala maggiore la settima minore anche in questo caso me la studio su tutta la stiera in questo modo oppure creando le parte oppure per terze eccetera 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 milioni di modi l'importante è studiarle su tutto ehm su tutta la tastiera del nostro strumento. Altro elemento, e qui mi riallaccio al groove in questione, al riff in questione, è quello che su un accordo di settima, specialmente, accordo maggiore con settima minore, si può suonare, o meglio, si suona molto spesso, come un cliché proprio, la terza minore. Se mi direte su un accordo maggiore la terza minore, vi rispondo sì, ci sta bene in determinati casi, in determinati stili musicali. Di conseguenza, io posso suonare, ad esempio, sia la pentatonica maggiore, e qui mi raccomando, sia la pentatonica maggiore, sia quella minore, mi raccomando, anche queste, in varie diteggiature, su tutta la tastiera, sia quella minore, E questo è quello che succede anche in questo riff Andiamolo a vedere Molto lentamente Si parte da un Re diesis legato al Mi Quindi alla tonica Vedete poi Io lo prendo qui perché mi piace più la sonorità Altro elemento Se lo suono in una certa porzione di tastiera Avrà un sound In un'altra Avrà un suono completamente diverso Le note sono le stesse Ma il sound è diverso Quindi io lo preferisco qui Tonica Il primo passaggio sono questi Ottavo e sedicesimi Quindi 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 tonica diciamo E la settima minore Re naturale E la notte successiva è un si naturale Quindi la quinta Normalissima E anche quinta giusta Quarta Quarta Mamma mia Quarta giusta Scusa La naturale E qui si arriva alla nota caratteristica del riff Che vi dicevo prima Terza minore Terza minore Sol naturale Ma funziona Perché appunto È un accordo di dominante Questo è il primo step Chiamiamola la prima battuta Diciamo E anche se la battuta finisce Su me Comunque Studiate un pezzettino alla volta Lentamente All'inizio Finché non vi entri nelle dita La precisione delle note Non proseguite oltre Questo è un consiglio Quindi Siamo arrivati alla tonica Quindi all'ottava sotto Mi 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 Fa diesis Quindi a seconda maggiore Mi Sol diesis Questa volta suona a terza maggiore Mi 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 E' anche musicale Proprio questa linea Com'è cantare Poi c'è un elemento Diciamo L'elemento finale Che riporta L'ottava sora Che è un legato Tra la quinta La sesta maggiore Si Naturale Do diesis Che Per chi ha studiato Arte in linea di giaco Anche questo È un suo Clichè Chiamiamolo così Suonare la sesta Su questo tipo di accogli Fatto moltissime volte Classico esempio Passiamo un attimo E' un re E' un re Sesta Settiva minore Sesta Quindi un altro elemento Che già utilizziamo Molto molto spesso Quindi Torniamo al nostro riff Torniamo al nostro riff Torniamo sulla tonica E riguarda Vi ho preparato anche una basa Per poter suonare il groove Senza il basso sotto Quindi se volete studiare il brano C'è una piccola backing track Per poter appunto Sperimentare Studiare E studiare Senza il basso Originale sotto Quindi se State apprezzando Questa Ho chiamato io Rubrica Dedicata A questo argomento Mettetemi un mi piace O comunque Un commentino Qualsiasi cosa Che mi faccia capire Che Sono apprezzate Questi Tipo di Lezioni E il riassunto Diciamo Di oggi Gli spunti sono Quindi L'ascolto Di quel tipo di funk Chiamato Anni 60 Comunque Sono intorno Fine 60 Inizio 70 Quindi Ha scoperto Di tutto quel mondo Lì Musicale Come Studiare Arpeggi E scale Tutta la tastiera Quindi Individuare L'armonia Del riff In questione Del solo Che ne dobbiamo studiare E prima di studiare Proprio la parte di basso Andarsi a vedere Gli arpeggi Le scale Possiamo associarsi Associarci Su tutta la tastiera E poi Quando si studia Un groove Un passaggio Una linea Qualsiasi cosa Consiglio Quello di prendere Pezzettini Piccoli Alla volta E farli al loop Finché non li abbiamo Proprio Interiorizzati Alla grande Io Vado avanti Quindi Nella prossima lezione Vedremo un altro Capitolo Diciamo così Del video Di Giacomo E Niente Ci vediamo Al prossimo video Di Giacomo